Coccio Monfreda, la vittoria di stasera è in una delle partite forse più belle di sempre, di questa vola alto? È una delle più belle perché è stata vinta col cuore, è stata vinta con la partecipazione di quasi tutte le ragazze in campo e anche perché in questo momento è importante il morale per intraprendere spero un percorso positivo Dal secondo set in poi è cambiata musica, è stato una vola alto che davvero ha cambiato marcia l'avete evoluto fortemente questo successo, addirittura nel quarto sembrava destinata al tie break invece poi è cambiato qualcosa Sì, è entrata la Paoletti che ha dato un enorme contributo proprio nell'ordine della gestione del pallone è stata molto brava sinceramente e poi guarda, volendo fare un'analisi, neanche il primo set è stato cattivo a chi abbiamo commesso qualche sciocchezza che in questo momento ci sta caratterizzando le gare Nel primo set c'è stata qualche incertezza in attacco, abbiamo gestito male qualche attacco, c'è stata qualche sciocchezza però è finito da 34-36, una cosa del genere, questo dimostra che bastava essere un po' più attente cosa che abbiamo fatto nell'ultimo set e la partita volgeva a nostro favore però ci voleva quella tranquillità, quella calma per fare le scelte giuste La vittoria di stasera può essere un po' la vittoria della svolta di questo inizio di stagione? Non lo so se è la vittoria della svolta o se lo sarà io mi auguro che sia una, soprattutto una vittoria che ci faccia, che ci dia un po' di tranquillità più consapevolezza di quello che possiamo fare perché secondo me il potenziale c'è, il fatto che stasera abbiano giocato 11 ragazze su 12 vuol dire che abbiamo anche delle alternative, anche delle possibilità per cambiare il match nel corso d'opera però ci vuole la convinzione da parte di tutte quante le atlete di dare il massimo quando si viene impiegate può succedere che c'è un momento di sbaventamento, va bene però deve essere una cosa che deve essere vissuta in una maniera più tranquilla, più traumatica perché sono convinto che il contributo di tutte ci potrà essere utile in questo campionato